Questo è il cuore di tutti i viaggi, torre di controllo vuol dire piste, aerei, bagagli, partenze, arrivi e questo aeroporto è l'inizio della nostra avventura in movimento, due ali e quattro ruote perché l'aereo ci porterà lontano, oltre l'oceano, lì ad attenderci ci sarà un'automobile, unica compagna affidata del nostro viaggio Un viaggio all'insegna della libertà più totale, dell'armonia con i luoghi che andremo a scoprire Il tutto per Fly and Run Marco Polo